Per concludere Rizzo, anche se abbiamo già fatto dei riferimenti, soffermiamoci sul rapporto tra governo Draghi e Arcelor Mittal. Notiamo un appiattimento, un asservimento da parte del governo rispetto ad Arcelor Mittal, un governo pronto ad obbedire ai diktat di Arcelor Mittal. L'ho detto prima, un governo serio rispetto all'atteggiamento sprezzante, ingiurioso, psicopatico di questi soggetti, la prima operazione che farebbe è sgombrare dal tavolo questi personaggi, quindi li allontanerebbe. Il governo deve avere il coraggio di andare per una volta incontro alle esigenze della comunità e dei lavoratori. Qui non si tratta più di mettere in sicurezza Arcelor Mittal, qui si tratta di mettere in sicurezza la città, il territorio e i lavoratori di quella fabbrica. Noi abbiamo indicato la strada, la strada è l'accordo di programma, quindi sediamoci, ragioniamo, troviamo le soluzioni per i lavoratori e andiamo oltre quella fabbrica perché di quella fabbrica in tutta onestà non se ne può più. Anche e soprattutto perché quella fabbrica è talmente pericolosa che nelle mani di soggetti sbagliati è come mettere un Kalashnikov nelle mani di Osama Bin Laden. Quindi io dico sempre siamo attenti, il governo si assuma le responsabilità per una volta e faccia quello che è nell'interesse di tutta la comunità.